Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla Siena-Bettolle per lavori, chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano con chiusura dello svincolo di Monte Pescali in direzione Livorno. La viabilità cittadina a Firenze, chiusa via San Leonardo per lavori tra via di Belvedere a via Schiapparelli. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!